buongiorno amici bentornati su officina del pilota oggi lavo questa stelvio la lavo utilizzando solo il tubo dell'acqua come lo faresti tu a casa tua o nel tuo garage l'unica cosa di professionale che utilizzo sono i prodotti che trovi qui sotto in descrizione che tra l'altro hanno lo sconto di officina del pilota quindi comprali sei pronto io sì ecco i prodotti il primo è iron plus che serve dai cerchi ricordatevi sempre di partire dai cerchi buongiorno Grazie a tutti. Comunque ragazzi non fate le fighette, usate le mani, altro che guanti, solo con le dita così a pelle nuda potete sentire dove ci sono, ecco guarda, vedi queste incrostazioni, adesso poi sono i pezzi delle pasticche, guarda, vedi, un po' di caviale lo volete? Bene ragazzi è arrivato il momento di APC Plus, lo spruzzeremo sulla superficie della macchina ancora asciutta, questo serve per sgrassare tutte le impurità, si può diluire fino a 1,40, io l'ho fatto a 1,4 perché mi serve un po' più di forza nello sgrassare lo sporco. Grazie a tutti. Neanche una lancia è così precisa, il mio pollice È il momento dello shampoo, 10 millilitri ogni 10 litri d'acqua per un lavaggio quotidiano, 50 millilitri ogni 10 litri d'acqua per un lavaggio più intensivo. Grazie a tutti. sta registrando? la parte alta la facciamo col guanto più morbido mentre la parte da qui in giù con un altro guanto se non hai il doppio secchio sciacquolo o risciacquolo col tubo l'importante è che le impurità se ne vadano così da non graffiare la superficie della macchia qui c'è un po di catrame stai attenti a non sporcare tutto un po di catrame stai attenti a non Ufff Ok A good world gone bad Where we stumbled around Trying to find or be found In a good world gone bad A turn on the news A sad state of affairs Half the people dying While the rest of us are splitting hairs It's a good world A good world gone bad Believe what I say We're all gonna pay For a good world gone bad guitar solo Guarda, catrame, qui, 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 qui Rimangono ovviamente attaccati E quindi ci spruzzo un altro po' di apc Aspettiamo un attimo Vedi? Tac, guarda Due secondi E lo stacchi Ci siamo quasi caro Giorgio Stai godendo come un riccio, eh? Questo qui ragazzi è il panno Che se non ve lo comprate Vi do un sacco di botte Perché, ragazzi Senza questo Avete bisogno Dell'ausilio Del compressore d'aria Per asciugarla Cioè Io lo accendo E l'asciugo Tu se non ce l'hai Come fai? Così Guarda che bello Andiamo in piscina A far bagno Guarda come asciuga Tiè Pazzesco Che goduria Che goduria Che goduria Mamma mia Che poi Oltre ad asciugare Pulisce pure Perché Metti che non sei passato ovunque E ti sei distratto Tiè Che bomba Guarda Guarda Che cosa ho trovato Una volta che la macchina Pulita Vedi tutto Qui c'è della cacca Degli escrementi Di uccelli Maledetti Guarda come va via Che spettacolo Io adesso Queste boccette Le vedi queste Ne compro 10 Penultimo step Ci siamo quasi Vetri Grazie Stasza Grazie a tutti UltraCot Scott V2, un gioco di parole in realtà non lo è Con l'apposito tampone si spruzza qui sopra, si applica su tutta la carrozzeria in modo crisscross incrociato E si rimuove immediatamente con l'apposito panetto fornito da Officina del Pilota by Carcare Questo qua giallo, per una finitura eccezionale ragazzi, il gioco è fatto Ragà attenzione perché dovete coprire tutta la superficie, non fate gli ignorri Ogni singolo punto, quindi fate un po' come vi pare però la dovete coprire tutta E il bello di questo prodotto è che non devi aspettare il tempo di cura, lo rimuovi subito dopo l'applicazione Tocco finale eh, la ciliegina sulla torta Se la tua auto è nuova o è stata appena lucidata Questo qui è il modo giusto per lavarla e per non creare quei graffi orrendi, quegli swirl Che vengono fatti ogni volta che la porti al lavaggio con i rulli Mi rendo conto che è faticoso, che i prodotti costano, tutto quello che vuoi Però se ci tieni la tua auto la devi lavare in questo modo Segui step by step e non sbaglierai più Qui sotto in descrizione c'è un bel link per acquistare esattamente il kit dei prodotti Che ho usato io in questo video C'è anche il mio codice sconto, quindi ti conviene acquistarlo da qua sotto L'ultimo step del video che è il trattamento nanotecnologico è facile da applicare anche facile da rimuovere Lo potete fare tutti e questi prodotti sono davvero validi Altrimenti non ve l'avrei proposti Il video termina qui, mi raccomando iscriviti al canale e soprattutto mettimi un bel like grosso così Ciao Ciao